Dopo Monesi va ancora giù verso l'entremiglia Praticamente vieni a fare la via del sale e incontri la gente di Iesi Il filo tra Il filo tra Qualcuno di Iesi Qualcuno di Iesi Non mischiamo l'oro con la latta Non mischiamo l'oro con la latta Io tanto non lo pio Io non lo pio Che nome? 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 Che objects? Che cringe? Che parte ma ilaine utzare Grazie a tutti. 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 a tutti.